il leader leghista ci attaccano perché diamo fastidio al sistema io non ho mai commentato la storia del figlio di grillo o dei parenti di conte io al citofono qui il caso è diverso lì c'erano degli spacciatori le vicende private e personali non le commento di nessuno né degli avversari né degli amici la stessa procura dice sostanzialmente che non c'è reato quindi giudizi morali non ne do ma la lotta contro ogni tipo di droga è la mia ragione di vita non sarò mai a favore del consumo della droga della liberalizzazione della legalizzazione della distribuzione di nessun tipo di droga e chi la usa sbaglia matteo salvini arriva all'ex macello in viale molise a milano accompagnato dal candidato sindaco luca bernardo e dopo il sopralluogo risponde alle domande dei cronisti che invece ieri sera ni guarda non avevano potuto avvicinarlo sulla vicenda che riguarda il capro espiatorio luca morisi ex social media manager della lega ideatore della bestia e non di minore importanza amico di salvini che si dice dispiaciuto perché il fango sparso in queste ore verrà smaltito e poi a chiedere scusa so già che saranno in pochi permettetemi però di dire che in un paese normale visto che di indagini sulla lega e su di me ne avete fatte a decine e sono finite in nulla sto ancora aspettando di sapere dove sono i rubli di putin gli amici mafiosi di siri gli errori dei nostri parlamentari tutto è finito in nulla così come salvini si augura che finisca in non nulla la vicenda di morisi se come mi auguro non ci sarà nessun reato a carico di una persona infamata aspetterò temo in vano le scuse di qualcuno rispetto quello che dicono i giudici la procura parla di fatto banale senza che ci siano altri precedenti e di un eventuale consumo personale che condanno e sempre condannerò se poi settimana prossima uscirà come sono convinto che il dottor luca morisi non ha commesso alcun reato chi gli restituirà la dignità se tutti attaccano la lega è perché siamo gli unici che diamo fastidio a un sistema che vuole portare indietro l'italia se luca ha sbagliato sarò il primo a chiedergli perché io non mi sono mai permesso di commentare le vicende del figlio di grillo dei parenti di conte o di qualcuno della sinistra mi fermo sono vicende private e torna a ribadire la sua netta posizione contro l'uso di stupefacenti chi spaccia droga è un delinquente chi la usa è un cretino la differenza tra un criminale e un cretino da codice penale è evidente e comunque rincara la dose salvini nel pomeriggio morisi non c'entra nulla con il partito perché lui risponderà a se stesso e alla sua coscienza di certo osserva è un attacco gratuito alla lega a cinque giorni dal voto così il leader della lega matteo salvini parlando dell'inchiesta sul suo guru social luca morisi ospite di oggi è un altro giorno su rai 1